Svolta nel misterioso caso della giornalista svedese, scomparsa a bordo del sottomarino Fai da te, costruito da un inventore danese, Peter Madsen. Il corpo della reporter Kim Wall è stato ritrovato in mare, a largo delle coste della Danimarca, senza testa, senza braccia e gambe. Secondo la polizia, gli arti e la testa sono stati staccati intenzionalmente. Il ritrovamento rende ancora più oscura una storia dai contorni poco chiari fin dall'inizio. La giornalista era salita a bordo del sottomarino per realizzare un reportage sul suo eccentrico inventore. Il sommergibile è stato ritrovato affondato di fronte a Copenhagen, Peter Madsen è stato salvato, ma a bordo non c'era traccia della donna. L'inventore prima ha detto di averla riportata a terra, poi ha dichiarato che era morta a bordo a causa di un incidente e che aveva gettato il suo corpo in mare. L'uomo è per ora accusato di omicidio per negligenza.